La presentazione di oggi sarà da Ezeb a Zezb, ci sarà il libro dopo, per chi lo vuole, insomma c'è un po' più omaggio, che cosa significa questo acronio? Zero emission smart building, quindi noi dagli edifici a energia quasi zero dobbiamo arrivare alla zero emission, quindi edifici a emissione zero smart building, con il controllo dirigente di tutti i parametri che sono all'interno della casa. Quello di cui volevo parlare sono tre piccoli argomenti, uno è che cos'è l'edificio di valore, di intelligent building, ovviamente serramenti e risparmio. C'è un'immagine, la vedete, di una casa con su scritto sotto, valore di una casa, così facciamo anche l'animazione, cos'è il valore di una casa? Molto velocemente una casa Courmayeur ha più valore di una casa con piano. Non è di questo che però vogliamo parlare oggi, cioè non è il valore economico dell'abitazione, il valore di una casa è il valore di quanto le persone stanno bene all'interno della casa e soprattutto, come abbiamo visto in tutte le presentazioni di oggi, quanto è il risparmio che questa casa porta e il beneficio ovviamente all'ambiente. I parametri su cui ci concentriamo sono diversi, quello più importante per me, per la mia progettazione, è la qualità dell'aria. Ovviamente ho concentrato tutta la mia progettazione sul cercare di progettare il conforto abitativo che va oltre alla semplice abitazione, quindi case con una capacità di pulire l'aria all'interno molto molto elevata. Sarebbe interessante con lo studio in neuroscienze fare la prova con una qualità dell'aria, quindi capire questo tipo di esperimento in un ambiente inquinato, quindi con forte inquinamento indoor e con un ambiente altamente pulito, quindi questo sarebbe anche molto molto interessante. Una casa di valore è una casa che soddisfa l'esigenza a seconda della destinazione d'uso, ovviamente deve essere salubre, quindi qualità dell'aria molto alta, opererò avere sistemi che puliscono l'aria. Non so se tutti lo sanno, all'interno della casa produciamo inquinamento, inquinamento indoor, noi stessi respirando emettiamo CO2, i materiali che utilizziamo per immobilio, il metodo di inquinamento, le piastrelle, le colle, le pitture, i detersivi, tutto quello che ci circonda inquina. Questo ovviamente respirando continuamente quest'aria ci fa malare, quindi la casa di valore è la casa che ci fa stare bene. Se l'aria è pulita noi dormiamo meglio, respiriamo meglio, non abbiamo più mal di testa e questo ovviamente migliora la qualità della vita. Deve essere ovviamente confortevole quando occupato e soprattutto cosa deve fare la casa quando è da sola, quando noi non ci siamo, che usciamo la mattina alle 7 e torniamo la sera alle 7, la casa deve fare anche altre cose. Ovviamente non deve funzionare, non deve consumare l'energia o comunque il minimo per essere mantenuta. Deve comunicare con noi, quindi ci sono le app che comunicano con noi e migliormente l'esperienza che noi abbiamo nel vivere la nostra stabilizzazione. Ovviamente usare punta e solo l'energia per il comfort. Sto arrivando. Sto arrivando, fantastico. Faccio che continuo così, mi sembra che stiamo facendo bene. Deve usare, deve autoprodursi l'energia e quindi essere a base dell'impatto ambientale e possibilmente cedere avvicinato l'energia in struttura. Quindi adesso sono andate le comunità energetiche, questo ovviamente migliora e soprattutto sensibilizza le persone. Quindi magari che ho fatto ultimamente delle ville con dei detti molto ampi, facendo parecchie fotovoltaiche, quindi magari anche 20 kW, che non erano, diciamo così, necessari all'utilizzo dell'abitazione e che con una comunità energetica ovviamente può distribuire l'energia ai vicini. Deve essere esteticamente accattivante e, come ho detto prima, comunicare agli occupanti che soppertono. l'exus, ho preso qualche spunto dai giapponesi perché quello su cui noi dobbiamo andare a lavorare nel futuro è progettare le case come progettano le auto, perché noi saliamo su un'auto, come ha detto prima, non mi ricordo chi, vendiamo le case senza livello di istruzione. dobbiamo arrivare a questo, cioè noi quando saliamo su un'auto abbiamo un altro mondo. Le case ancora non sono, quindi cercare di tendere a quello che fa l'exus e quindi adattare i desideri dei principali bisogni dei clienti creando un'esperienza capace di coinvolgerci. Questo sicuramente sarà il futuro delle abitazioni. Questo è un piccolo esempio di quello che sono le abitazioni sono specializzate in ristrutturazioni energetiche, quindi case vecchie, si rifà tutto, pannelli sul tetto, pompa di calore, piccolo accumulo e via. Qualche spunto mi piace molto questa idea del tetto biosolale, ovvero tetti piani dove facciamo un tetto verde, quindi con 10-15 cm di terriccio si può costruire un tetto verde che migliora la biodiversità della zona, raffa che aiuta a non riscaldare troppo le superfici del tetto e soprattutto per il fotovoltaico riusciamo a creare qualcosa di superlativo per noi e per l'intelligence circonda. Qui c'è un piccolo video, se si vede, qui c'è una finestra, ovviamente di alluminio, con una tablarella, con un frangisore automatico. Il concetto che volevo far passare è che per fare l'esperimento energetico con l'intelligence building dobbiamo avere sistemi automatici che ci aiutano a migliorare il comfort, quindi se io ho un'abitazione che non è abitata durante il giorno e c'è molto sole, devo avere dei sensori di temperatura che mi fanno scendere giù i frangisori e quindi mi riparano dal sole, perché quando io faccio entrare il caldo all'interno dell'abitazione poi è molto difficile tirarlo fuori, quindi il consumo di energia è molto alto. Quello su cui mi sto specializzando nell'ultimo anno, nell'ultimo periodo è appunto la zero emission sbarbietti. Non sono ancora normative che stanno uscendo in cianità, però l'Europa ne sta parlando. Questo qui sarà l'indice del futuro nelle certificazioni energetiche, quindi lo smart re-admiss indicator, ovvero indicatore dell'intelligenza dell'edificio. Questo è molto importante, si collegano a tanti argomenti che abbiamo visto oggi, perché io qui ottengo una classe A quando all'interno della mia abitazione ho dei sensori che mi vanno a misurare la quantità di CO2, la quantità di composto di granici volatrici, di volatrici, soprattutto di formal data, che per chi non lo sa, è cancerogena, e mi vanno a comandare i sistemi di ventilazione. Quindi va bene la temperatura, va bene l'umidità, dobbiamo andare ancora oltre. L'oltre è questo qui, quindi da qui in avanti è quello che dobbiamo attendere nel prossimo futuro. Con l'occasione oggi presento il mio nuovo libro, appunto da ZEB a ZEB, io sono un ingegnere elettrico termotecnico, quindi sono tornato un po' alla mia origine, parlo un po' di impianti elettrici, di contributi, ci sono dei contributi che probabilmente non tutti conoscono, di 15 mila euro per l'intelligent building, quindi all'interno dei vari contributi che ci sono non possiamo estrapolare tutte quelle funzioni, tutti quei parametri che ci aiutano a comandare la climatizzazione all'interno di casa e ricevere un contributo. Questo è molto importante perché è qualcosa in più rispetto a tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Poi all'uscita ne potete prendere una copia. Diciamo, l'ultima slide, diciamo che è interessante cominciare a vedere questa visione olistica, ovvero un insieme di cose, ambiente, uomo, casa, consumi, quindi tutto deve essere interconnesso, ovviamente con l'app, quindi io ho l'esperienza e capisco cosa sta facendo la mia casa e cosa voglio che faccia la mia casa. La storia dei colibri ci piace a tutti, vi lascio con queste immagini, una storia già rara raccontata al nord, immagine colorata, organista, stiamo tutti percorrendo questa strada lunga e dritta verso un futuro luminoso, vi dico così, e dobbiamo fare forza, unirci perché tutti possiamo fare la differenza. Vi lascio con te molto, vi faccio respirare a sana pulita e salve e insomma buona serata. Grazie.